Dopo il terremoto di metà settimana, con la società che ha comunicato la separazione dal proprio allenatore, per il nome del successore ci sarà da attendere, ma tutte le strade convergono in un'unica direzione. La Sir Susa Perugia, targata ancora per poco, Andrea Anastasi torna in campo. Alle 18 a Padova si gioca l'ultima partita del girone dei Playoff Challenge. I Block Devils sono già qualificati per la semifinale, ma la sfida della QN Arena non è affatto ininfluente. C'è infatti da stabilire chi chiuderà il primo posto, il Lizza Perugia e Monza, posizione che vale il fattore campo anche nell'eventuale finale, ovvero la gara decisiva per la conquista di un posto in Europa. Potrebbe essere l'ultima trasferta di questa stagione, sappiamo cosa è che ci manca, ovviamente di fare almeno questo set per portare a casa le partite. Ai bianconeri, come specificato alla vigilia dello stesso Sebas Solè, basterà vincere un set soltanto, dunque anche una sconfitta per 3 a 1, per centrare l'obiettivo, quello di non muoversi più dal Palabarton. Il centrale argentino dovrebbe partire titolare insieme al brasiliano Flavio, per il resto Anastasi sembra orientato a tenere fuori Capitan Leon, preferendogli Plotnischi, con il lussemburghese Rikrichki favorito su Herrera. Semenuk, Giannelli e Colaci libero a completare lo starting seven.